Amici di Android Blog, ancora lo stand Asus per trovare il medio della gamma Zenfone, parliamo di Zenfone 5. Questo è il terminale che riprende le linee dello Zenfone 4 con questa bellissima finitura in fondo, con i tasti a scocca, il led della fotocamera frontale e lo speaker del lato parlante, un lato sinistro bello pulito con il posto per infilare l'unghia per aprire la scocca, possiamo vedere anche il lato destro con il bilanciere del volume e il tasto accensione e spegnimento blocco o sblocco, super aumento, secondo microfono per la suppressione dei pushy e il jack per le cuffie. Dietro la camera da ben 8 megapixel, molto interessante una funzione che andremo a vedere a breve per i scatti con poca luce, questi 8 megapixel la fotocamera è anche stabilizzata e c'è il flashless, in fondo la bella griglia dell'alto parlante, sempre molto bella anche la finitura della scocca in questo rosso opaco, sotto la presa micro USB e il microfono principale. Ma andiamo subito a vedere l'interfaccia che abbiamo visto con il primo Zenfone personalizzata da Asus, andiamo a aprire la fotocamera che possiamo vedere comunque anche come è strutturata l'interfaccia, qui Asus ha allestito un bello scatolotto con un buco dove noi dobbiamo andare a puntare la fotocamera e siamo praticamente in assenza di luce completa. Tappiamo sul tastino col gufo, lui elabora per un attimo l'immagine e come vedete è riuscito a schiarire, andiamo a vedere un attimo nella galleria, è riuscito a schiarire l'immagine fino a questa luminosità. È davvero incredibile perché la scatola è praticamente completamente nera. Questa funzione praticamente aumenta del 400% la luminosità delle foto e dei video. Asus la chiama Pixel Master Low Light Mode. Per quanto riguarda le altre caratteristiche fisiche di questo Asus Zenfone 5, abbiamo un display, come dice il nome, da 5 pollici con risoluzione HD, 1080x720 pixel, anche qua protetto con un Gorilla Glass 3. La fotocamera frontale è da ben 2 megapixel. La capacità della batteria, inoltre, è di 2110 mAh. Il telefono è disponibile oltre in questo colore rosso, anche in bianco, black, nero, viola e dorato. Come potete vedere qua davanti, in questa teca, vi sono anche gli accessori particolari degli Zenfone, come le flip cover, le cover posteriori che abbiamo detto sono removibili, e il pennino capacitivo. Andiamo a vedere ancora un attimo se troviamo la versione di Android che equipaggia questo Zenfone 5, che dovrebbe essere anche in questo caso la 4.3, quindi nessuna novità tra i due terminali provati. Mentre la capacità di storage si attesta su 5,9 GB. In questo caso non vediamo comunque possibilità di inserire la microSD. Per Zenfone 5, per questa prima occhiata che abbiamo dato qua al Mobile World Congress, per ora è tutto, un saluto da Alessio per Androidblog.it